Musica Giornata cruciale per il dossier Continuità Territoriale Aerea, oggi 8 aprile, la scadenza per la risposta di Alitalia. Infatti i voli dal 17 aprile in regime di continuità sono appesi alla decisione dell'ex compagnia di bandiera che oggi deve rispondere alla proposta fatta dal presidente Cristian Solinas di servire le tratte DAE per gli scali di Alghero e Cagliari rinunciando alle compensazioni degli oneri di servizio. Intanto il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Ryanair in merito alla continuità territoriale aerea DAE per la Sardegna dell'ultimo bando. La compagnia irlandese chiedeva la sospensione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'imposizione di oneri di servizio e dei bandi indetti dalla regione per la gestione delle tratte. Nell'ordinanza i giudici parlano di genericità delle censure di pretesa violazione della normativa comunitaria. I giudici inoltre ricordano che c'è già un'investitura della Commissione europea sulla questione aiuti di Stato. Contestazioni mosse da Ryanair che punta il dito contro il numero eccessivo di aiuti pubblici sulle tratte tali da limitare la concorrenza. Posizione è questa sulla quale il neopresidente della regione Sardegna Cristian Solinas ha già preso provvedimenti proprio per evitare il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Europa proponendo la sospensione della nuova continuità in attesa di una nuova proposta dell'attuale giunta che comprenderà la tariffa unica e l'estensione del regime anche ad altri aeroporti italiani. Ora non resta che aspettare la decisione di Alitalia per capire cosa succederà per i sardi che voleranno dal 17 aprile in poi. Fu mattanera anche oggi in Consiglio regionale per la designazione dei sette assessori che avrebbero dovuto completare la giunta del sardista Cristian Solinas. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, nominato alla quarta votazione con la maggioranza assoluta di 36 voti, la seduta è stata sciolta e aggiornata la prossima settimana, martedì 16 aprile. Il nuovo Presidente del Consiglio regionale della Sardegna è il 45enne Michele Paes, esponente leghista, avvocato di Alghero. È un'emozione che fa tremare le vene ai polsi, non avrei mai immaginato che mi avrebbero scelto, che Dio mi assista. Queste le prime parole del discorso del neopresidente che sostituisce Gianfranco Ganau. Sei i voti andati a Elena Fancello del Movimento 5 Stelle e due ad Antonello Peru, vicepresidente uscente del Consiglio ed esponente di Forza Italia più votato dell'isola con oltre 6.000 voti. Molte le voci alla vigilia clodavano tra i possibili candidati. Michele Paes, alla sua prima elezione regionale, ha al suo attivo 18 anni di esperienza nel Comune Catalano, dove ha ricoperto anche il ruolo di assessore al bilancio. Dopo settimane di attesa arriva una buona notizia per i dipendenti del Policlinico Sassarese, siglato nel pomeriggio di ieri dal direttore dell'Inps di Sassari il provvedimento che autorizza l'erogazione degli assegni di solidarietà ai lavoratori della Clinica di Viale Italia, dichiarata fallita il 24 gennaio scorso. Si tratta di uno tra i primi casi in Italia di erogazione di fondo di integrazione salariale per i dipendenti di un'azienda in stato di fallimento con esercizio provvisorio. Consiste nella possibilità per questi lavoratori di avere un assegno che gli permette di poter andare avanti mese per mese. È una cifra che è commisurata al numero delle ore che lavoreranno e a quelle che non lavoreranno. Non è una grande cifra ma è certamente meglio di niente. L'elemento fondamentale degli assegni di solidarietà, così come di tutti gli strumenti e gli ammortizzatori sociali, è quello che permette in una condizione di crisi come quella che stia vivendo il Policlinico e i lavoratori del Policlinico di rimanere collegati all'azienda. La nostra priorità è questa, è tenere in piedi l'azienda, fare in modo che il Policlinico riprenda a fare il suo mestiere nel suo complesso e nel suo completo, non solo per la parte che attualmente c'è, che sono soltanto gli ambulatori. L'obiettivo è questo, non è un altro. Per farlo è necessario che ci siano i lavoratori e che resti l'azienda. Erso Sassari vince il ricorso davanti al Tar della Sardegna contro il progettista e direttore dei lavori della ex fondazione Brigata Sassari. Gli uffici dell'ente, procedendo a verifica nella fase preliminare di affidamento ai lavori complementari per l'ultimazione della nuova casa allo studente di via Carlo Felice, avevano evidenziato la perdita dei requisiti da parte del progettista. I vertici aziendali avevano così deciso di sollevare dall'incarico il professionista in via cautelativa, il quale aveva immediatamente depositato la propria opposizione al provvedimento al tribuno all'amministrativo regionale. Una vicenda che ha creato un inevitabile stop ai lavori che sarebbero potuti concludersi entro l'estate del 2019. L'ente ha comunque preferito attendere il pronunciamento del Tar prima di procedere con lo scorrimento della graduatoria e la prosecuzione delle opere complementari. Siamo soddisfatti dell'esito della sentenza che conferma la grande professionalità dei reparti amministrativi e tecnici di Erso, ha sottolineato il presidente Massimo Secchi. Quanto accaduto ha causato un rallentamento di circa un anno nella consegna della struttura agli studenti iscritti a Sassari, contiamo di procedere in maniera più spedita per giungere quanto prima al termine dei lavori e all'inaugurazione della nuova casa dello studente che disporrà di ben 75 posti letto. Nelle opere di completamento dell'area, compresa anche la realizzazione di una piazza con aree verde e parcheggio a raso con ingresso da Viale Audua, fruibile anche dalla città. Con l'apertura su Viale Audua e la creazione della piazza, dichiara Antonello Argitu, direttore generale di Ersu, l'ente si apre alla città e contribuirà a dare nuova vita e attrattività all'intero quartiere. Palloncini bianchi, simbolo della purezza, per non dimenticare che Alberto Melone aveva solo 18 anni ed è stato ucciso per un tragico gioco dal suo migliore amico, Lucas Sava. Due famiglie distrutte, alle quali l'intera città di Alghero ha voluto manifestare la sua vicinanza, condividere il dolore di due mamme che hanno perso i loro ragazzi, anche se in modo diverso. La funzione funebre si è svolta ieri nella chiesa di Santa Maria, una folla silenziosa ha accompagnato il feletro per l'ultimo saluto. All'uscita della chiesa applausi e il lancio dei palloncini. Lucas invece si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali, anche se avrebbe voluto salutare Alberto. Un rimorso che lo accompagnerà per tutta la vita, un gesto fatale, un errore, frutto di chissà quale fantasia. Alghero si è ritrovata ancora una volta unita, in un dolore immenso, questa volta per la perdita di una giovane vita, qualche mese fa per la morte di Michela Fiori alla vigilia di Natale, una donna, una mamma, per mano del padre dei suoi figli. Non ci sono parole, solo dolore, ha scritto il sindaco Mario Bruno in un posto, subito dopo la tragedia di venerdì scorso. L'amministrazione comunale ha proclamato il luto cittadino e anche in ragione Michele Paes, di recente nomina, ha ricordato la tragedia che ha colpito la città catalana. Da presidente del Consiglio, da sardo, da cittadino di Alghero, da padre, esprimo dolore per una tragedia che ha spezzato questa giovane vita e ne ha rovinato un'altra. La scomparsa di Alberto deve essere un ulteriore momento di riflessione sul futuro dei giovani sardi. Due dirigenti del Consorzio Zona Industriale Regionale Predanieda di Sassari sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per peculato e abuso d'ufficio. Nell'ambito di una più vasta azione investigativa svolta in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Sassari hanno svolto complesse indagini nei confronti di un funzionario del Comune di Sassari temporaneamente nominato dirigente presso il Consorzio ZIR di Predanieda. Il dirigente è stato indagato per i reati di peculato e abuso d'ufficio insieme al commissario liquidatore regionale protempore. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari hanno consentito di acquisire importanti indizi a carico del dirigente che avrebbe distratto nel periodo 2014-2016, in ripetute occasioni, ingenti somme di denaro dal bilancio dell'ente pubblico. In sostanza avrebbe attribuito, facendo personali valutazioni a se stesso e ad alcuni dipendenti e riservando per sé la parte più cospicua, premi di produttività in assenza del raggiungimento di obiettivi programmati e in un periodo nel quale il passivo di bilancio dell'ente peggiorava annualmente sotto la sua gestione. Lo stesso dirigente, peraltro, favoriva disinvoltamente alcuni debitori del consorzio omettendo di incassare titoli di credito dati da questi ultimi in pagamento di somme dovute per centinaia di migliaia di euro e a oggi mai incassate. Tali attività erano formalmente avvallate dal commissario liquidatore regionale, rappresentante legale dell'ente, poi licenziato nel 2017, il quale consentiva gli illeciti anche se non risulta essere coinvolto nella spartizione di denaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.